Sì, 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 sì. Bersaglio neutralizzato. Ha eliminato due dei miei uomini. Oh, mio... Ricevuto. Tu, abbatti la porta. Tu, con me. Signor Sè! Saranno qui molto presto. Che facciamo? Joel! Provo io. Vediamo il corridoio. Tu, scendi al controllo. Dov'è quel tizio? Dov'è quel tizio? Forza troia. Beccati! Coprite le uscite! Dai, forza! Siete circondati! Non complicatevi la vita! Oh, merda. Ok. Ellie, forza. Dietro di te. Oh! 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 E come usciamo da qui? Ok, dobbiamo passare dal salone. Sta giù, non so quanti altri ce ne siano. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so. Non so, non so, non so. Senti, non essere stupido. Stai con me, forza. 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 Grazie. Cazzo. Soldato, atterra! E pancherai per questo! Lui è qui dentro! Lui è qui dentro! La pistola! La pistola! La pistola! Ragazzi, controllatela giù! La pistola! La pistola! La pistola! La pistola! Beh, qui niente, cerchiamo ancora. Io cerco di qua. Joel, ecco l'uscita. La vedo. No! Prendilo! Tame on! Ok, do un'occhiata in giro. Cerca laggiù. Porca troia! Lui è qui dentro! Sono corsi negli uffici. Dai, forza. Ok, do un'occhiata in giro. Oh, cavolo. Prendete le scale. Li faremo uscire. Ok. È lì, forza. Sta giù. Non so quanti altri ce ne siano. Non so. Non so. Non so. Non so. Grazie.